Qu'è? Qu'è? Oh! Anzi, questi. Questi sono succosissimi. Bojanard. Facciamo Bojanard? Dove? Qual? Qual, qual? Bojanard? Il mio. Se ci fosse ancora la metropolitana potevamo scendere pure allo stadio tipo, però invece senza metropolitana non si può più scendere troppo fuori. C'entra io? Non ricordo se raccontavo con Roger la partita di ieri dove stavamo fuori. Ah, no, con Roger. Era bella nel senso che uccidevamo però non ci potevamo fermare un attimo. Appena arrivavamo nel cerchio subito ripartiva il gas. E allora, capito? Da lì ho capito, basta. Non si può scendere più fuori dal cerchio. Discesa? Ah, starà andando... No. Individivamolo. Qui c'è una corazza. Sei tu che si fai rumore coi pazzi? Ho dato. Eccolo! A terra. C'è il compagno, sicuramente. Io guardo qua, eh. Arriva da lì. È lì. Allo scudo. Sono due, tra l'altro. No, no, al pin grosso? E vedi, c'è quello con lo scudo. C'è anche l'altro. Come ho fatto a morire? Incredibile. Io non ci riesco a credere. Mi raccomando che si stava morendo. Che l'ho preso pieno. Che l'ho fatta leggero. Ah, boh. Tra l'altro non mi ero neanche accorto che lì... è stato messo a terra. Eh, mi dispiace che porca puttana ha tirato su quell'altro, ma... Ma no, è incredibile che non è morto, eh. L'unica cosa è che non avevo le piastre. Ma comunque lui, i colpi che gli ho dato, doveva morire. Occupati di quello stronzo. Oh, no! Ma l'aggato brutto. Ma vaffanculo. No! Che cazzo... Ah, è scato il tempo, ma no, ho un po' l'ho dato male. Non ce la facciamo mai rientrare tutti e due. Eh, lo so. Sembra che la statistica, capito, è una legge della natura. Proprio uno entra e uno no. Se entra l'altro non entra con l'altro. Oppure il gioco che è tarato in questo modo come una sorta di momentum. Cioè, se entra uno non fanno entrare a posto il compagno per far più equilibrato, come si dice per FIFA e PES. Addirittura a posto. Almeno avrebbe senso. No, ma secondo me non è vero, eh, se dire così. Camionaccio. Vabbè, la cosa buona è che comunque a Bojanard ci sta molto da luttare, quindi anche se non abbiamo più i soldi, possiamo trovarli. Sì. Però c'è anche il fatto che quelli che ci hanno ammazzato avranno luttato loro. Sì, qua era tutto aperto. Oddio, mi ha fatto cala fuori, mannaggia santa. Qui c'è una carattera. Qui non è luttato. andate. Arrivano il helicottero, aspetta. Via. Dicevo, la fiastra me la porti tu? Lo lasciate qua, però. Eh che ora sto qui al luttare. Se no vengo io. Aspetta. L'hai ripresa? Aspetta questi qua con il quad Sono scesi eh Nasconditi Quale quad dei due era? Quello dietro o quello... Il sinistro dei due Vediamo se vanno al carrello C'è il sedente di tomba Via via andiamo Ah scusami Dove dov'è? Dove dov'è? Non so se questo è quello che ci ha uccisi prima Prendigli la sua roba Comunque ha fatto entrare il compagno Sì Quindi è da solo Però il compagno potrebbe scendere qui Se vuole fare il fenomeno Vuole munizioni se vuole Le hai prese a lui? No Aspettiamo di prendere il fanta... Ah va L'hai lanciata? No No L'hai ritirata... All'ultimo E' arrivato col quad Eh ma non è venuto da dietro? Sparano all'elicottero Vediamo se qua ci stanno le casse Per ora non vedo casse Zero Ah aspetta mi sa cassa aperte Sì cassa aperte hanno luttato Vabbè prendiamo la taglia Ah cassa rossa chiusa Autoress Aspetta che ti dai soldi dai Ti puoi comprarlo No non ti dammi la coscienza così Allora mi riprendo No la classe dobbiamo comprare Avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo E' ricottero Non so se è il caso di andarlo a prendere la classe Vediamo se va avanti E' ricottero Se va avanti Dai finiamo a luttare dopo Attenzione da verso il carrello Potrebbe Stiamo Preso Una sola Dai Dai meno male che qua è già tutto luttato Almeno non devo sentirmi il dovere di luttare io Cerco di comprare dal carrello Aspetta volevo lasciarti Vabbè vengo l'uomo Come l'ho dato adesso Mi lo lascia Meno male che è calato dal cielo Il viaggiamento Almeno non abbiamo speso i soldi Vediamo se sta la bandiera Qua è la bandiera Andiamo Puoi fare la lente o la bandiera? Lasciate il terrestre Lasciate il terrestre Anche che la lente in realtà Su Bonnard è facile da fare Guarda facciamo facendo la lente Che dici? A Bonnard è paradossalmente più facile da fare la lente che la bandiera Allora diamo un'occhiata agli aerei passando Perché comunque io ci ho trovato la cassa rossa Quindi potrebbe esserci ancora qualcosa Infatti poi sono dei soldi Ah qui mi ha fatto nasce Oh cassa chiusa Fumogeno doppio Ah già l'avevo doppio Con un'altra cassa chiusa Tu guarda stai aerei qua Ah finita il saliente Possiamo provare a fare la bandiera Altri soldi Guarda da te Da me Google quanto è stato facile sto contratto Ah meno male che non è l'indulto Rieniamo al carrello Sprochiamo sti soldi Prima che ci ammazzano Ci li fottono Consumiamo Io mi compro il bombardamento E la maschera E ti lascio tutto Questa volta guardo bene Prima di comprare Perché La te non c'è nessuno Guardamento E maschera Tieni Oh stiamo stra bene Ci possiamo chiudere Dove stavamo all'inizio Era un bel palazzo Secondo me Un bel edificio Hai preso la maschera Hai preso la maschera? Che è questa Non era la maschera Non era questo Dicara questo No no C'era il piano di sopra con la scala Dove c'è il ping? Ah dicevi quello Dicevi Eh ci andiamo? Andiamo Andiamo Quel edificio dove stavo con Roger Quando siamo presi secondi Allora Una clamor qua Una qua E una qua Com'è c'è l'on messa? Ok Ok Ma stai ancora giocando Allora lui Ho finito Potrei giocare dieci minuti Una o due partite Però poi Ne devo andare Fatemi sapere Stiamo giocando Mo' siamo in partita Ehm Siamo ancora all'inizio Oh il carrello Il carrello Il carrello Il carrello Hai visto? Eh ma non Non ce l'ho stare Assist Non sanno dove sto qui Ho visto proprio da uno spigoletto Quelli pensano di averlo ucciso da soli Se ne è dirà il ping azzurro stavano Vediamo se vengono versati qua Con gli che l'hanno uccisi Se bei cinque minuti finiamo Non è che dura Eh ho detto velocemente Perché ho visto la macchina Vicino al carrello Eccoli Al carrello Ho visto la macchina Allora per finire l'audio Ho detto così Mo' glielo ridico bene Mo' che si calma la situazione Allora vediamo se vengono qua Quelli Non li vedo più Secondo me stanno a camberà là Ah hanno preso la macchina Ah non l'ho lasciata Che l'hanno preso a fare Ecco lì Stanno muovendosi Per esempio lì dentro E si è affacciato Tio gli potrei sparare Gli potrei sparare E' tutta corazza Però non mi faccio vedere Stanno avvicinando Ah hanno preso la macchina Vanno via Meno male Erano loro Eh Erano loro La bella bandiera Famiglia a roggere Bene come stiamo Allora 5 minuti Entro pure io che aspetto Per partire riesco a fare Mentre poi mi domanda Ok ok Siamo mo' 30 team Siamo messi molto bene Andiamo a fare la bandiera? No Cioè se dobbiamo spostarci Sì ma Uscire da qua apposto Direi Però è vicinissima Ma in effetti Pure per farla Poi dovremmo spostarci Quindi Facciamo stare Questo posto è ottimo 28 team Dai dai Facciamo gli scannafra di loro Oddio Che ha sparato? Io ho l'elicottero Tutte le entrate Sono coperte Dall'eclamo Poi Da sopra Possiamo vedere Quelli che entrano Da quel lato lì Io Da qua sopra Vedo tutte e due le porte Che stanno Dal lato destro Io vedo solo Chi passa qua sotto Ah tu Dalla porta tua Puoi vedere sotto a me Io dalla porta mia Posso vedere tutto Quando Davanti a te No dico Se ti affacci qui Vedi le porte sotto a me Capito? Se sentiamo l'eclamo Ci affacciamo tutte e due Io mi affaccio qua Tu ti affaccia C'è il pingazzurro Io vedo due porte E tu vedi quelle sotto a me Forse Io vedo una porta sotto a te Cosa c'è qua? Dal pingazzurro Ah Una? Ah da qui? Eh dalla scala Dico Però Sì però Sì però Se non è il caso Mi sposto Eh sì Appena si andiamo Una claim Io mi metto qua Capito? Tutti Si sporgi un po' Sulla strada E' capitato Dove entrano L'importante Che non ci vedano Che stiamo qua sopra Da fuori Perché se no Ci tirano le bombe Le robe Secondo me Potrebbero Entrare Dalla porta Questa qui A destra Perché Che sta qua Perché da lì Dovrebbero venire Cioè da lì Non li vediamo venire Se vengono da Da voi Non li vediamo Ma è probabile Che viene qualcuno E la bandiera Qualcuno Se l'è presa Quindi c'è qualcuno Vicino Guardate un attimo Che vado giù Perché vai giù? Volevo vedere se c'era Una macchina Della bandiera Bel nemico A terra Sotto te Vado a finire Stazzati Stazzati Ho temuto Se nella finestra Se nella finestra Ci fottono Non è che si può Si fa Qualche si può Eh Tu hai sparato Prima loro Ho sparato Dalla finestra Uno di due L'ho messo a terra Mi sono buttato E ho sparato Quell'altro Nel frattempo Quello che avevo messo a terra Si è arrestato È entrato E lo è deciso Allora Tu dalla finestra Dai un'occhiata A tutta Boynard Io mi posto qua Per vedere Se entrano dalla porta Ecco Vediamo dove ci tocca andare Adesso Prendiamo il clamor Vai Questa sarebbe Ottima Però sarà dura Arrivare Quella la puoi pure Lasciare secondo me Perché potrebbe Vendrà qualcuno Dal gas Capito Vendrò No Lascio questa Perché se la prendo Prendo il Contrata Non è nemmeno lasciare Vendrà una taglia Perché siamo Sulla strada Ho paura Qui Non sta attentissimi Quel largo Pieno di gente Alla Vendrà il cerchio Movimento Almeno quelli che si vedono C'è un'altra Andiamoci a mettere dietro I muri Qua Arrivati qui Siamo già meglio C'è uno qua E c'è la taglia A sinistra Andiamoci a mettere dietro Quel muro Io ci andrei All'ultimo Sai Passare qualcuno A destra A sinistra Ah Io guardo Verso a sinistra Quelli della taglia Io sto guardando qua Capito Tu guarda Destra e dietro Dietro Chi che spara Così va a sparare Ah le ricotte sparavano Mangia un fumogeno Spaziamo qui Dipende dove vuoi andare Sembra lo sbarco in Normandia Intra sta roccia Vieni Controllo quinto Mi ricomincio Il punino rosso Lo vedi? Sì Sì Secondo me Da dentro Si è spostato Si ce l'ho Tu guarda verso Destra e guarda verso Sinistra Finalmente Ci avrete entrambi Verso la fine Quella possiamo vincere Bombardamento Maschera Cotto piastre Addirittura Una claim Voglio giocarmelo Bene Bombardamento Eh si Ci vuole andare Però potrebbe anche Sare su già qualcuno Vediamo dietro Quella recensione Questa rossa? Ah quella? Lì è fuori E restano dieci Andiamo 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 Sopra la collina Bombardo Pinga dove devo bombardare Bombardo Dove stanno? Usa una claimant Dove devo bombardare? Un puntino rosso Pingami dove stavano? Sulla mappa Sulla mappa Sulla mappa Vedo Scappano Scappano Qua non c'è nessuno Tu guarda Verso la casa Io guardo Verso di qua C'è Due fumogeni Coprimi Ah tu guardi Io guardi qua Allora Vedo uno Là sopra Nelle colline Dalla casa Nessuno Esce Per ora Bombardamento A caso Del nemico C'è qualcuno Nella casa Gialla Perché vedo Le mine E' Forza Cavolo E' Diretamente Dentro C'è Niente Cazzo Cazzo la maschera Mi si è rotta Oh cazzo Qua sto troppo esposto Alla casa Gialla Però No 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 Nel glass Miro la finestra Miro la finestra Ecco che scende Morto Morto Bellissima Bellissima Vai Cazzo Vai Bravo Tu L'hai Cisi Cazzo Cazzo